Sono nato il 28 aprile 1916 a 100, in Italia, e mi chiamo Ferruccio Lamborghini. Nel secondo dopoguerra fondai una piccola azienda produttrice di trattori, la Lamborghini Trattori, che divenne rapidamente un successo. Il mio amore per le auto di lusso mi ha portato a possedere Ferrari. Fu però l'incontro con Enzo Ferrari a cambiare il corso della mia vita. Avevo riscontrato alcuni problemi con la mia Ferrari e quando mi sono rivolto a Enzo per discutere di questi problemi, ha respinto le mie lamentele, suggerendomi di continuare a guidare i trattori. Nel 1963 ho fondato automobili Lamborghini a Sant'Agata Bolognese, Italia. La prima Lamborghini, la 350 GT, venne presentata nel 1964. Negli anni 70 ho dovuto affrontare difficoltà finanziarie che alla fine hanno portato alla vendita della Lamborghini ad altre società. Sono morto il 20 febbraio 1993, ma lo spirito di innovazione che ho instillato in Lamborghini rimane più vivo che mai.